Dopo aver sventato i diabolici piani di Plankton, i nostri eroi avanzano nel deserto, ma Plankton è sempre un piccolo passo avanti a loro. Così invia qualcuno per farli fallire nell'impresa. Si tratta di un killer feroce, spietato, di nome Dennis. Fortunatamente Spongebob e Patrick hanno ritrovato l'hamburger auto in un parcheggio, ma mancano le chiavi. L'unica cosa da fare quindi è entrare nel malfamato bar a cercarle. Buona fortuna amici miei, ne avrete bisogno. Dovete riprendere la chiave dell'hamburger auto. Buone nuove Patrick, hai raccolto abbastanza gettoni Goofy Goober e posso insegnarti un nuovo colpo. Il mio tonfo è il più grande! Si chiama schianto pancio. In aria? Sì, devi essere in aria per eseguire lo schianto pancio. Puoi usarlo per premere pulsanti, spaccare pavimenti e colpire i nemici. L'hamburger auto è parcheggiata qui fuori, ma per usarla dovrai recuperare la chiave. Non suona difficile! Probabilmente dovrai eliminare tutti i gaster per riaverla. Questo suona difficile! Puoi farcela, so che puoi! Oh bene, se credi in me al... La chiave dell'hamburger auto! Attenzione! Facile! Presa! Salto, saltino, saltello! Trova da macio! Ora puoi andare! Piccola misura, grande puzza! Ci, giocare! Grazie a tutti. 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 Oh! 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Salto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti!